Ciao a tutti toretti e benvenuti in questo 42esimo episodio della serie Made in Italy qua su Farmy Simulator 2015 nella nostra bella cascina Allora oggi ho finito, adesso vediamo un attimo, ecco qua, vediamo un po' quanto insilato abbiamo fatto Ho finito di fare l'insilato in quel campo, poi ho smesso e ho venduto la trince Dai, 136.000 litri non è male, come vedi lo copriamo subito Sarebbero 136.000 per, quant'è che ce lo paga l'insilato? Insilato, 3.000, cavoli, quindi 300.000 euro, si potrebbe anche coprire subito Però direi di aspettare ancora un po', direi di fare una bella trince tutta piena Praticamente abbiamo fatto soltanto questo campo, ci sono ancora questi, quelli laggiù e Guardate com'è, ci sono anche altre due trince, non lo ricordavo così Il BJ, allora qui lasciamo i mezzi, ecco tra l'altro ci sono stati un sacco di commenti riguardo Ma Creed non esiste quel trattore Alla fine mi ha detto che sarebbe una sottospecie di R8, invece no Assomiglia al Deus serie 7250, ecco Però ho cercato su Youtube così e ci sono video di questo trattore In Italia non ne ho mai visti, c'è neanche in foto così, non ne ho mai visti Però sui territori dell'est, in Germania, quelle parti lì A quanto pare ci sono Non ce ne sono tantissime, però un paio ci sono Sarebbe un R6 Aspettate, ve lo dico subito, eh Un R6, eccolo qua 250 VRT Ok Allora, ecco, siamo sponati direttamente sulla nostra tri Non è la trince, la nostra trebbia Come vedete, vendendo la trince siamo arrivati a 567.000€ Ora, quest'oggi andiamo a A raccogliere il riso con la nostra laverda Che anche questa sarà da sostituire Cosa ho detto? Vabbè, da sostituire Allora, perché, vabbè, è una trebbia autolivellante Ditemi voi se volete che la sostituisca Perché magari, ecco Ho sbagliato strada Fantastico Si potrebbe uscire di lì? No Scendo dall'altra Ah, ho venduto anche Sono arrivati a prendere il Fiat Che c'era qui, il Fiat Agri Con il randazzo Guardate, lì c'è anche l'uscita dal portico Però no, facciamo l'uscita normale noi Comunque, la trince Come sostituire Cioè, come nuova trince ci compreremo la FR Della New Holland Mentre qua, come trebbio Ditemi se cambiarla O no Io ero tentato su un'altra New Holland Quella Di Seed Tipo Tipo questa di grandezza Forse leggermente più grande Non è una CR Cioè, se è una CR però è una versione piccola Però Sapete che non mi ricordo proprio che versione è Allora, andiamo a trebbiare il riso Che, adesso, sarebbe questo campo qua Ma dobbiamo vedere dove è l'entrata Comunque questa qui sta sbandando parecchio Allora Giriamo di qua Sbanda Sbanda, sì, parecchio Poi dopo Ah, ecco Siamo di fianco al campo che avevamo intrinciato Allora Iniziamo a dispiegare la barra Ora Non mi ricordo più come cavoli si faceva Ad aprire Sopra Allora Apri copertura centrale Ok Però selezionando Fantastico Siamo a posto Attivata la La barra Ok, inizia a trebbiare In pratica sarebbe riso però Sarebbe colsa Però è stata modificata la texture Quindi sembra una coltura tipo il riso Guardate che bello però Fatta bene Complimenti ancora agli autori Che hanno fatto un ottimo lavoro su questa mappa Anche se non è Non c'è tantissimo Come Ambiente Cioè l'ambientazione L'ambientazione È la cosa fantastica di questa mappa Perché tipo shop Così non c'è tanto Non c'è proprio Quindi Su questo lato di ambientazione È molto bello Poi Per chi abita in Pianura Padana Sarà La mappa preferita La nostra Laverda Guardate se viaggia Fai 9 all'ora Non è male Stiamo un attimo all'interno Ok Ecco Intanto parliamo un attimo di questo Ah no Dallo scorso video Ecco riguardante al Lamborghini Trovate in descrizione Allo scorso video Vi ho anche scritto nei commenti Il video del Lamborghini Proprio Un video di falciatura Con un Lamborghini Vero ecco E riguardante invece questo video Stamattina Allora Domenica mattina è uscito un video Su Valentino Rossi The Game E fino a lì ci siamo Mentre Questo video qua Dovrei farlo uscire Domenica Dato che So che ci tenete molto Allora ho detto Vabbè dai Sto registrando Domenica mattina Alle 10 No Sono le 11 Così le 11 Cavoli Sono già le 11 E Allora Dipende se riesco a Aspettate Ok Così Dipende se riesco a editarlo E caricarlo in tempo Per le 2 Per le 2 Non riuscirò mai Nella vita Dato che Allora Fate che finisco alle 11 E mezza Di registrare Poi dopo farò Editing Un'oretta Ok Quindi Per l'1 Ho finito di editarlo 2 3 Eh Fino alle 4 Sicuramente non è puro Non riesco a caricarlo Quindi La mia idea sarebbe quasi Quella di farvelo avere Intorno alle 6 O alle 5 O alle 6 Oppure Farvelo avere Di lunedì Quindi potrebbe essere Che oggi sia lunedì Adesso vedo un po' Come è la situazione Magari vi farò Vi avrò fatto un post Su facebook O Sotto al video Di domenica mattina Ecco Sinceramente Non ho pensato neanche Di riuscire a registrarlo Invece Ho avuto un piccolo Spazio di tempo E Allora Ve lo registro Mi spiace che non è potuto uscire Sabato Come di solito Però Vabbè Purtroppo Ultimamente Sono molto impegnato Quindi Già Se già prima era impegnato Ora Veramente Non riesco proprio Ad accendere il computer Proprio Impegnato al massimo Allora Adesso facciamo Il Giriamo intorno al campo Poi dopo gli mettiamo L'automatico Andiamo a prenderci Il Landini Se non mi sbaglio Con il rallato Allora Qui Qui le risaie Sono Ecco Fatte benissimo Perché ci sono Guardate Ci sono anche i canaletti Dell'acqua Aspettate Andiamo avanti qua E poi Scendiamo un attimo Non mi ricordo più Quindi Vabbè Dopo gli metti L'automatico Come produttività È bassa Appunto È colsa Il riso Poi non fa Non fa La paglia Strano Cioè Sinceramente Non lo sapevo Perché Come cultura A dir la verità Mi pare Che non averla mai vista All'ultimo stadio Di crescita Passando magari In autostrada Vedi un po' I campi Però non l'ho mai notata In questo stadio Di crescita Oppure No No mi pare di no Comunque Ah ecco I mezzi Devono ancora arrivare Mi sa tanto Che arriveranno Nel prossimo episodio Tutti i mezzi Compresi I balloni Inoltre Ecco Dato come l'avete detto In molti Gli ho dato Una piccola Sistematina Al salvataggio Dalla all stream Non è che sia un granché Tipo i campi Dovevo Era mezzi Arati I mezzi Coltivati Vi lascio a voi La Possibilità Di continuarli Il link Delle molle Trovate sotto L'ultimo episodio Quindi se caso Vi potrei Ricomprare I cingolati Mi sa tanto Che andrò Ve li ricomprerò Così da Lasciarveli lì E poi Che altro Ah vabbè Le mod private Ecco Quelle le cancellerò Perché in teoria Voi non le vedrete Nel gioco Quindi le cancello Così avete un po' Di soldi in più E per i Cosa sono Il Landini E il Vaia mi pare Di altro Non mi pare Daver nulla Non mi ricordo più Sapete Allora adesso Mi avete consigliato L'autotractor più aggiornata Me la devo ancora scaricare Allora qui Facciamo fare Un altro giro di campo E noi Ci portiamo a casa Il Lamborghini Dai Poi dopo qui Penso che Facendo molto soldi Con l'insilato Ci potremmo permettere Parecchi trattori E Se vi ricordate Lo scorso episodio Avevo in mente Di comprarmi Un bel po' di mezzi Allora La nostra farm Mi pare Che sia di qua Comprarci parecchi mezzi In modo da avere Una bella azienda Tipo avere Ogni carro Il suo trattore Ogni botte Il suo trattore E così via Adesso Il Lamborghini Stavo pensando Da che siamo in risaia Di trasformarlo In Ruote cingolate E' da vedere Se scegliere il Lamborghini Oppure un altro mezzo Tipo Il Fiat 9090 Che si potrebbe anche comprare Anche se però Stavo pensando Di aggiungere mezzi nuovi Qui Poi vedremo Allora Ah poi Ditemi un attimo Con la vasca Lì dell'Iquame Se è l'Iquame Eh sì L'Iquame Dell'etame Se è l'etame Che è un punto Di stoccaggio Oppure vi Spona direttamente Lì l'etame Allora Lo mettiamo poi Qua dentro Allora Vediamo un po' Se riesco Con le manovre Non riesco Bene No dai Ce la possiamo fare Dai 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 Eh Metterlo un po' Più contro Sono belli Queste capagne C'è capagne Queste cascine qua Sono tutte fatte Quei mattoni Se qua sarebbero mattoni Quelli chiusi Se non mi sbaglio Oh no Sì in teoria sì Ok Il nostro mezzo Lo lasciam qua Ora Ora scendiamo Senza andare a cercarlo Sì è Landini Con il Randazzo Max volume Mi sembra Un po' Troppo blu C'è più blu Rispetto al solito Come Questo Landini Però vabbè Magari è una mia impressione Allora Sinceramente Forse è un pochettino Esagerato Però se Trebbiremo Tutti i campi Di Di riso Quindi Ci può anche stare Cosa tiene 40.000 litri Mi pare di sì Tra l'altro Mi pare che siano usciti Dei carri simili Sul 17 Però non li ho ancora provati Sempre quelli Sempre di agua Perché Ci sono sempre Gente C'è sempre gente Che converte Altre mod Come al solito E Vi ricordo che Non va affatto bene Questa cosa Sia per L'autore Ma anche per la community Perché sennò Va a finire come Nel Nel 15 Sì Nel 13 Non era così Mi pare Vabbè Allora Saliamo a bordo Dal nostro trebbia Riprendiamo il controllo Della Dell'astronave Qua Che E dai C'è il 50% E impiegherà un bel po' Eh Però Fattibile dai Ma Sapete che Si potrebbe anche tenere Senza andare a venderla Ci compriamo un'altra trebbia Sta qua la teniamo Perché Effettivamente Non è male Da vedere un po' Quanto costa L'altra Perché Penso che vadano 300.000 euro Compresa anche la barra Così perché Come sapete Poi li dovremmo Prenderci anche al carrettino Perché Questa Questa qui è comoda Per la barra Così che Si ripiega Magari Potremmo tenere soltanto No vabbè Ci vogliono In due barre Vabbè Magari montargli Questa cressoni qua Sulla New Holland Ci potrebbe stare Poi vedremo Ok Ha una bella accelerazione Però Ci mette un po' a frenare Bisogna Dargli una controllatina I freni Mettete che siamo In un campo Intorno al fossato Qua siamo giù Nel fossato E via Trebbia da Disincastrare Brutta storia Allora Vabbè Qui abbiamo Vi faccio vedere Abbiamo Eh non ci sono i numeri Cavoli sui campi Se no potevo dirvelo Ah comunque Ecco un'altra cosa importante Mh Ho intenzione Avevo intenzione Di iniziare lunedì Con una nuovissima Aspettate Passiamo la barra Riabbassiamola Ok Ok Avevo appunto Intenzione di iniziare Una nuova serie lunedì Che magari O domani O oggi Adesso non so Quando uscirà questo video Ancora Comunque Vi dico già Che inizierà Una nuova serie E Però Non so ancora quando Può darsi che inizi In settimana Oppure settimana prossima Di lunedì In settimana Mi sa Di no Perché Potrebbe essere Vabbè Giovedì Venerdì O domenica Perché Mercoledì E il sabato Ci sarebbe questa serie Forse questa settimana Ve la porto solo sabato Ecco Perché Vabbè Devo ancora portare A portarmi un po' avanti Cosa così Comunque Vediamo Se lasciate tantissimi like Ve la porto lo stesso Mercoledì C'è Come di Consueto Comunque Questa nuova serie Sto pensando Su una mappa Tedesca Era una mappa Sarebbe la Bindelbuck Che ecco Se non sapete che mappe sono Vi consiglio di andare Sul Canale di Killer Croc 88 Che lui le ha presentate Entrambe Una è la Bindelbuck L'altra è la L'Osberg Sono due mappe Vabbè Sono fatte in maniera In stile Tedesco Diciamo Però La L'Osberg È più Nel senso È una mappa nuova Mai vista Non c'era Sul 15 Mentre l'altra C'era sul 15 Anche Forse No Sul 13 No Comunque Anche la Bindelbuck È fatta Parecchio bene Se avete altre Proposte Iscrivetele Nei commenti Può darsi Che vi farò Un sondaggio Qua nel video E Quella lì Sarebbe una serie Tedesca Proprio Tedesca Al massimo Compriamo Mezzi Tedeschi Con Bella potenza E poi Il pezzo Il pezzo Forte È che Utilizzeremo Soltanto Mod C'è Vabbè Ci compreremo Qualche Trattore Di default Perché Sono fatti Molto bene Però Principalmente Una serie Only Mod Poi Ecco Una serie Sarebbe questa E l'altra Sarebbe Quella di Però Magari È ancora Da vedere Quale iniziar Prima Ditemi Tutto nei commenti Cosa pensate Le vostre Idee Opinioni E tutto quanto L'altra Sarebbe quella Di fare Una sottospecie Di serie Francese Tipo Quella Che ho fatto O avevo fatto Sul 15 In cui Era quella che era Partire sulla Mappa Le Chazè Che si chiamava Le Chazè Serie Le Chazè Poi dopo è diventata Serie francese Comunque In cui proviamo Le nuove mod E facciamo E facciamo Lavorazioni Normalce Portando avanti L'azienda Quella lì Non era male Però Secondo me È da migliorare Un po' La Come si dice E migliorarla Un po' Perché È bella Però dopo Lasciamo sempre Le lavorazioni incomplete La volta dopo Le lavorazioni Sono già finite Non so Se vi piace Oppure no Però ho intenzione Di portare anche Una serie del genere Perché sul Così da Riportarvi un po' Tutte le nuove mod Ma anche Con la serie Con la Sulle mod Ecco Ma anche Portarvi una serie Ben precisa Su Un'ambientazione Magari Geografica Particolare Ci sarebbero anche Ecco Io ho pensato Una serie tedesca Però ci sarebbero Anche delle mappe Francesi E inglesi Inglesi Mi sa tanto di no Magari faremo Qualcose Multiplayer Adesso sto ancora Vedendo Però Molto probabilmente Si E Perché con le mappe Inglesi Sono belle Tutto Però sono Grandi Hanno campi Immensi Come con la The English Farm Abbiamo Failato parecchio Perché Abbiamo Il campo più grande E non riusciamo A finire le lavorazioni Pensate voi Ad arare quel campo Grande Che è sulla The English Farm Cioè Ci vanno Mesi ormai Altro che giorni Ok E queste erano le idee Magari Poi più avanti Si potrebbe provare Una mappa Francese Così perché Anche mappe francesi Sono fatte parecchio bene Comunque le opzioni Sono Bindleback E L'Osberg Poi ditemi nei commenti Se avete qualche altra proposta Ci sarebbe la Allstream Map Però Non la utilizzo Perché L'abbiamo già utilizzata Sul 15 L'abbiamo appena finita Di utilizzare Quindi So che è cambiata È molto diversa L'ho anche provata Ci gioco ogni tanto Però Non mi sembra Tantissimo Il caso Di riproporvela Perché Pressoché Sapete com'è Poi dopo Vabbè Sono cambiate parecchie cose Però È una mappa Più piccolina Ecco Non è che potete Comprarvi un trattore Da 300 cavalli Si potreste Però Uno E basta Invece se andiamo Sulle altre due mappe Tedesche Lì Ho già in mente Di comprarmi L'8R Dalla John Deere Poi Cos'è che c'è Ci sono anche Altri bei mezzi Tipo i Fend Comunque Ci sarebbe tanta Bella roba E Utilizzata anche In Germania Magari partire Con un qualche Trattorino piccolo Poi vediamo Però la partenza Ecco vi dico già Che molto probabilmente Toglierò i mezzi Di default Mi compro già io Qualche bel mezzo Magari a parte La trebbia Che vorrei Riutilizzarla Un pochettino Dato che L'abbiamo utilizzata Un po' poco E Per non partire Già con cose Troppo grosse Ecco Allora Qui siamo quasi Piene Parlando E scherzando Ok adesso La scarichiamo E poi ci salutiamo Anche Comunque Bindleback O L'Osberg Le scelte Sono queste Poi Ditemi ancora Voi Nei commenti Cioè Ve lo sto ripensendo Tre volte Così che se Magari qualcuno Ha schippato Il video Ecco Che lo Sera ritrovato Allora Dai 98 99 Tra l'altro Sono sveglio Da Da un bel po' Ma Stanotte ho fatto Una camminata Dal paese Di fianco Al mio Cioè di fianco Un'oretta di camminata Per andare E per ritornare a casa Che Mi sono Svegliato Tranquillamente Allora Qui a posto Ok Tra l'altro C'è stato Un incidente Assurdo Che Dovamo andare Dal kebabbar A prendere le patatine C'era una macchina Che gli è entrata Nel Nel piazzale Ha spaccato giù tutto Spero si stivano bene Perché Si è anche ribaltata E Chi magari Mi segue su instagram Avrà visto la storia Si vede poco Però Bell'incidente Cavoli C'è un brutto incidente Ok Qui siamo a posto Eccoli qua I nostri Due bei mezzo Adesso non so Se riesco a fare le screen Si Dovrei riuscirci Ma Guardate che belli Il landini qui Non è male Anche se Sto notando Che ho le texture Un po' più Scure del solito Non so Se è una mia impressione Oppure È proprio così Ok Ha finito di scaricare Io ragazzi Vi ringrazio per la visione E noi ci vediamo Domani con un nuovo video Ciao a tutti Toretti E al prossimo video Ciao a tutti